Amici Trevi Meteo, un saluto da Luca Pace e benvenuti a questo aggiornamento delle previsioni per la giornata di giovedì. Vediamo il fronte freddo che è disceso dal nord Europa nella giornata di mercoledì, raggiunge le nostre regioni meridionali mentre l'alta pressione delle azzorre si rinforza, quindi riportando condizioni di tempo stabile e soleggiato in particolare al nord Italia. Vediamo quindi le precipitazioni attese per la giornata di giovedì e possiamo vedere come due sono le aree maggiormente interessate, il medio adriatico in particolare nel corso della mattinata e poi piogge temporali tenderanno a concentrarsi appunto nelle regioni del sud, quindi in definitiva ecco la previsione per la giornata di giovedì, tempo stabile soleggiato al nord, poche nubi anche sulle regioni centrali tirreniche, una mattinata invece ancora nel complesso di stabile sulle regioni del medio versante adriatico e al sud, ma proprio al sud i temporali continueranno anche nell'arco del pomeriggio e della sera. Per quanto riguarda le temperature queste sono previste in netto calo sulle regioni meridionali mentre al nord le massime saranno stazionarie ma da segnalare tuttavia che le minime saranno piuttosto basse quindi al primo mattino farà ancora piuttosto fresco. Bene per questo aggiornamento è tutto, vi ricordo per ulteriori dettagli di scaricare e consultare l'app gratuita di Trebi Meteo.